Amici e amici di Radio Punto Nuovo, buongiorno, ben ritrovati da Alessandro Montano per questa edizione di lunedì 12 settembre 2022, il day after di un sacco di cose, perché se siete amanti anche degli altri sport, oggi è il day after essere campioni del mondo, maschili di pallavolo, ieri l'impresa dell'Italia che ha vinto 3 a 2 in casa della Polonia contro la Polonia, grande favorita, ma anche se siete amanti del basket, la vittoria della formazione di Pozzecco che ha battuto una delle corazzate degli europei come la Serbia di Nicola Jokic, ma soprattutto se siete qui e perché siete amanti del calcio, soprattutto del calcio campano e allora il pareggio storico della Salernitana che ha quasi rischiato di fare l'impresa a Torino dopo un primo tempo fantastico, ammaliante degli uomini di Nicola e poi il putiferio che si è scatenato nel finale, come nel finale si è decisa la gara di Napoli contro lo Spezia, Napoli che ieri ha vissuto una giornata molto complicata dal punto di vista organizzativo perché è arrivata l'ufficialità della UEFA, è stata spostata di 24 ore la gara di Glasgow con l'interdizione poi ai tifosi del Napoli per il settore ospiti, tanti disagi, tanti temi, parleremo anche di Serie B, della caduta del Benevento dalle 13 e 45, però facciamo subito ordine e partiamo subito con i saluti, Giovanni Annunziata, buongiorno, eccoci. Ciao Alessandro, ciao a tutti, è stato un weekend incredibile, è successo di tutto, in tutti gli sport, ma ci sarebbe anche Monza che è finita con la safety car, e tante polemiche, dobbiamo dire tantissime polemiche, scandali su scandali soprattutto perché ci sono stati degli errori arbitrali clamorosi, ma non parliamo soltanto di Juventus salernitana, ma quello che è successo a Lecce, quei due rigori negati. Benissimo, quello che è successo a Lecce è anche molto, molto pesante. Per questo dico che è scandaloso. Scandaloso, anche se è comparso, sta girando, tra un po' lo noterete anche su tutti i siti specializzati, soprattutto per quanto riguarda quelli campani, di un video inedito di un tifoso che era proprio in linea con Candreva al momento del colpo di testa di Milik, e per quanto millimetrico, impercettibile all'occhio umano, però dal fermo immagine il piede di Bonucci appare effettivamente al di là di Candreva. È comprensibile la posizione della Juventus perché si parliamo di una distanza talmente minima che anche se si tracciano le righe col VAR è davvero difficile stabilire. Tuttora anche l'immagine non è completamente in asse, quindi tra in inganno, insomma, tante cose che però non devono cancellare quella che è stata la grande impresa della Salernitana ieri. Allora noi riapriamo le nostre linee telefoniche ritrovando, come abbiamo fatto l'imbocca al lupo venerdì per la gara di Torino, il professore Francesco Fimmano, avvocato della Salernitana. Professore, rieccoci, grazie mille davvero per aver accettato nuovamente il nostro invito. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Avvocato, parto dalla domanda più scomoda perché noi per mestiere dobbiamo anche un po' rompere le scatole, ci dobbiamo provare. Ovviamente non posso non chiederle un commento su tutta la vicenda che si è sollevata, sulla questione fuorigioco o non fuorigioco. Adesso stanno spuntando fuori anche nuove immagini. Se ci può dare la sua posizione, ne saremmo davvero grati. Guardi, i risultati del campo vanno accettati, non entro nel merito di squisizioni tecniche, peraltro molto complesse sul piano regolamentare. Le voglio dire che ieri abbiamo assistito ad un grande spettacolo e credo che questa sia la cosa principale perché il calcio italiano soffre questo problema. Noi, come siamo un'impresa di spettacolo, questo è un mondo legato allo spettacolo, alla parte ludica e c'è un fatto su cui sono tutti d'accordo. E' stata una serata fantastica per tutti i telespettatori, a prescindere da chi in realtà ti fassero. Il resto è assolutamente relativo, anche perché non ci ha sorpreso quello che è accaduto. Venerdì c'è qualcuno alla settimana scorsa, quando siamo sentiti, che mi definiva troppo ottimista. Ma il tema in questo momento non è neppure il risultato. Il tema che, ripeto, ci preme è quello dello spettacolo, dell'approccio e credo che la Salernità potrà dare un contributo importante in termini proprio di metodo, di mentalità a questo che è il nostro campionato e che deve, diciamo, riprendere una strada che ha perduto qualche anno fa. Resta il fatto che la Salernità ne abbia fatto la partita in casa della Juve. Avrebbe mai pensato di uscire con del rammarico dall'Allianz Stadium per quanto riguarda il risultato? Guardi, io potrei dirle che sono uscito con rammarico dalla partita di Udine, poi abbiamo visto l'udinese che cosa ha fatto, con un certo rammarico dalla partita con la Roma, dove alla fine il risultato è strimizzito, risponde a una partita che abbiamo mantenuto a livelli alti, quando ancora la squadra non era neppure completa e non parliamo della partita con l'Empoli, che ritenevamo portata a casa. Oggi se valutassimo da questo punto di vista potremmo avere addirittura, senza aver rubato nulla, 6-7 punti più. Ma il problema non è questo, perché oggi noi guardiamo alla costruzione ad un metodo, rispetto al quale i risultati poi sono una conseguenza nel tempo. Un progetto come quello del Presidente Erbolino è un progetto che presuppone necessariamente che si arrivi ai risultati attraverso il gioco. Quindi quando il progetto è questo è evidente che non si può fare diversamente. Probabilmente in queste partite a cui lei fa riferimento si potevano anche portare a casa con un atteggiamento più prudente. Ieri avete visto che il Minister ha fatto due sostituzioni di due attaccanti senza mai in realtà ipotizzare e guardare a risultati in corso. E questo è un metodo, cioè non critichiamo poi in realtà, il risultato incide eccessivamente nel nostro campionato, lo capisco, non faccio critiche, però evidenzio un metodo che è quello che riguarda la nostra compagine. Avvocato, per salutarla, lasciarla anche alla sua giornata, le facciamo le ultime due. Ci arrivano anche tanti messaggi al 380-127-2000, non le nascondo anche di qualche tifoso juventino, tanti stanno paventando anche l'errore tecnico, una virgola, un capello burocratico che porterebbe anche ad un eventuale spauracchio di match da rigiocare. Insomma, tante ipotesi che però alla Salernitana immagino interessino il giusto. Come ha ripetuto prima, la Salernitana interessa il risultato e il risultato del campo va accettato. Quindi se la sente di rispondere anche ai tanti tifosi che stanno polemizzando adesso? Ma io dicevo che interessa il gioco, non il risultato. Posso farne una battuta che in realtà mi piace talmente vedere la Salernitana che accetterei di buon grado rivedere la partita, perché le partite così fanno bene al calcio. Il resto si rende conto che nella prospettiva nostra e del tutto rilevante non è che cambiava molto se nella partita la perdevamo, la vincevamo nelle nostre condizioni. Perché per arrivare poi a poter produrre un certo tipo di calcio ci sta tutto. Abbiamo visto due belle squadre, due squadre importanti. Anche il momento, ripeto, un po' delicato alla fine ci sta durante il calcio, però poi dopo ho visto grande sportività da parte di tutti. Insomma, le ribadisco, non è che non voglio rispondere su questioni di metri, di centimetri, ma proprio contrario a quella che la nostra filosofia veramente non cambiava nulla. Quindi accettiamo tutto, anche le critiche, oppure le, voglio dire, queste diatribe fanno parte del gioco. Potrei risponderle che probabilmente c'era il rigore su Piatec nel primo tempo, prima ancora del primo rigore. Ma andiamo in un ambito che finisce col mortificare, quello spettacolo straordinario che abbiamo visto. E le dico con un entusiasmo complessivo da parte di tutti i tifosi, anche quelli dell'Aleguenzo, tanti amici dell'Aleguenzo, che in realtà si sono divertiti poi tanto. Capisco che noi dell'Aleguenzo abbiamo, diciamo, delle premesse diverse, ma una volta tanto guardiamo a quello che è stata una ferata di calcio meravigliosa. Avvocato, sei un'ultimissima Giovanni Annunziata, altrimenti la lascio alla sua giornata. Sì, quindi possiamo dire, per chiudere, Salernitana testa a Lecce, venerdì ci sarà una partita che vale veramente tanto. Sì, sì, ma io spero che anche quella sia una partita giocata a visaperto. Mi pare che il Lecce, nonostante sia una matricola neopromossa, insomma, faccia un buon calcio. Quindi l'obiettivo è vedere un grande spettacolo, insomma, vedere gol, vedere la gente che si diverte. E poi, le dico la verità, un pensiero ai nostri meravigliosi tifosi, che come ho detto ieri, erano ancora una volta quasi di più di quelli, diciamo, avversari. E devo dire, da questo punto di vista, mi dispiace dei tanti vuoti, che mai ci verificano nel nostro stadio e probabilmente la prossima volta che arriverà la Salernitana a Torino ci saranno tutti perché in realtà non guarderanno al tema della partita di cartello, al Benfica prossimo, ma guarderanno al divertimento. Adesso divertiamoci. Certo, avvocato, in bocca al lupo per tutto, grazie mille ancora per essere stato Radio Punto Nuovo. Grazie, arrivederci. Grazie mille al professore Francesco Fimmanò, legale della Salernitana, davvero anche molto elegante nelle sue risposte, tante polemiche. Al momento c'è anche la posizione forte della Lega che mantiene il punto, mantiene il pallino anche nel difendere questo giovane arbitro, mercenaro, che ieri ha dimostrato, certo, tanta, tanta personalità, perché poi anche nel finale i tanti rossi, le espulsioni, certo non si è fatto condizionare anche, secondo me, da quelle che sono state brutte scene, perché poi queste cose vanno dette. Non è possibile vedere un arbitro richiamato all'Unfield Review quasi bloccato dalla squadra che in quel momento sta subendo la revisione, quindi in questo caso la Juventus è stato accerchiato, è stato quasi impossibilitato ad arrivare a contatto con lo schermo, di lì poi il nervosismo dei giocatori della Salernitana, ancora non è possibile che nel 2022 non si riesca ancora ad accettare gli episodi arbitrali per quelli che sono. Certo, nel momento in cui viene accertata la posizione regolaria di Bonucci, mercenaro va sospeso, così come vanno sospesi tutti gli arbitri che facevano parte dell'equipe arbitrale, ma nel momento in cui le immagini gli danno ragione, l'arbitro in quel momento è intoccabile. Però continuiamo a parlare della questione arbitrale, ma non solo di Juventus-Salernitana, ma del rapporto che si sta generando sempre più tra la tecnologia e gli arbitri, quelli intesi alla vecchia maniera, ne parliamo con un'istituzione dei nostri fischietti. Piero Ceccarini, ex arbitro, grazie mille per essere con noi. Grazie a voi, per la chiamata. Signor Ceccarini, ovviamente partiamo da quello che è l'episodio di Torino, al netto dei centimetri, non centimetri, ma va fatto un discorso anche di cultura. Dicevo prima, è impossibile vedere un arbitro che viene accerchiato e quasi impossibilitato ad andare all'Unfield Review. Serve una svolta culturale nel nostro paese? C'è sempre troppa attenzione, sempre troppa pressione su quello che alla fine fa parte del gioco, ovvero l'episodio arbitrale in sé? Sì, ma questo esiste ormai da sempre in Italia, per cui ad oggi purtroppo non possiamo meravigliarci, perché esistevano i miei tempi, esistevano prima di me e le cose si sono proseguiti anche in questi ultimi anni, nonostante che sia trammessa la tecnologia, gli aiuti e tutto il resto. Viene fuori da una cultura, da una convinzione forse, da una mentalità che vede l'arbitro sempre come una persona che può essere sempre condizionato, che può sempre essere portato dalla nostra parte. Quindi questo sicuramente sì. Vorrei parlare un po' degli episodi di ieri, in primis ciò che sta facendo discutere veramente tanto, 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 il fuorigioco fischiato a Bonucci. Adesso, premesso che non abbiamo immagini che ci facciano capire se il giocatore è in linea, non è in linea, questo lo mettiamo da parte. Più che altro mi vorrei soffermare sull'interpretazione del regolamento. Bonucci non infastidisce il portiere, non interviene direttamente sul pallone, ma quindi l'arbitro in questo caso ha fatto bene a fischiare fuorigioco, andandola a rivedere, oppure interpretazione sbagliata? Secondo me, se non interferisce sul portiere o su altri difensori che potrebbero intervenire, bisognava lasciare proseguire l'azione, naturalmente. Quindi, è un'interpretazione che l'arbitro dovrebbe dare in campo, al di là poi di andarla a rivedere, poi quindi essere sicuro. Lì è logico che l'arbitro nelle interpretazioni che ha, la prima cosa deve essere sicuro di quello che vede, di quello che riesce a fare, perché se gli manca la sicurezza, gli mancano le certezze, poi nell'incertezza, anche se va a vedere l'equisodio poi al video, potrebbe o può sbagliare. Questo è fuori dubbio. Poi dal punto di vista dell'allineamento, secondo me il VAR era nato, è nato, doveva nascere proprio in funzione per evitare, diciamo così, questi episodi, no? Per quanto riguarda il fuorigioco, ormai, difficilmente, ora assistiamo a errori, quindi gli assistenti aspettano sempre ad alzare prima del fuorigioco, quindi il VAR può servire per questi episodi, quindi vedere l'allineamento, vedere se c'è una differenza di centimetri e cosa mai intervenire. Quest'anno è stato deciso di far giocare di più, di lasciar correre più episodi e di arbitrare diciamo più all'inglese, ma lei ha riscontrato questo atteggiamento da parte degli arbitri fino ad ora oppure manca ancora qualcosa sotto questo punto di vista e un passo in avanti non è stato fatto? E soprattutto se le piace questo tipo di arbitraggio chiaramente. L'arbitraggio a me piace io ero uno di quelli che che fischiava poco e che quindi quando si andava all'estero noi noi arbitri italiani ci divertivamo dal punto di vista strettamente arbitrale proprio perché lo spirito era quello di giocare di giocare il più possibile quindi quest'anno non lo so perché non ho non ho presente bisognerebbe avere presente tutte queste prime giornate e avere sotto mano diciamo così tutte le partite per dare un giudizio però penso che anche lì il lasciare giocare dipende soprattutto dalla sicurezza e dall'esperienza che un arbitro può avere quindi questo indudamente poi è logico che devono partecipare anche le squadre dei calciatori diciamo così a accettare accettare questo stato di cose perché a volte in Italia a volte capita che i calciatori delle squadre non accettino il fatto di lasciare giocare di non fischiare allora a me me l'hai fischiata e a lui no insomma si 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 intrecciano un po' tutti questi meccanismi che portano poi a mandare in confusione l'arbitro ceccarini grazie mille davvero per essere stato con noi a radio punto nuovo alla prossima di niente grazie grazie mille a Piero Ceccarini ex arbitro tra pochissimo continueremo ancora a parlare non solo di quello che è successo ieri allo stadium ma inizieremo a spostarci anche sul Napoli sulla vittoria contro lo Spezia sul Napoli che vedremo in campo con i Rangers perché ci sono novità anche dall'allenamento odierno di Castelvolturno dove si attendevano novità sullo Sano grande in dubbio per la gara di mercoledì tutto questo tra un paio di minuti ripartiamo quando sono le tredici e ventidue tra un po' vi daremo anche tutto il programma del Napoli in vista della trasferta di Glasgow intanto un'ufficialità abbastanza dolorosa per il Napoli perché lo Sano continua a non allenarsi anche oggi out dalla seduta azzurra sindrome influenzale molto acuta per il messicano che a questo punto è a serissimo rischio di poter saltare la gara di mercoledì in Champions contro i Glasgow Rangers quindi lo Sano out per sindrome influenzale anche se dovesse essere recuperato nella giornata di domani sarebbe comunque un recupero a mezzo servizio quindi diciamo che Politano va tranquillamente verso un'altra titolarità con la maglia del Napoli continuiamo a parlare di azzurri e non solo lo facciamo con il direttore Paolo De Paolo direttore grazie mille per essere con noi grazie a voi impossibile direttore non partire da quello che abbiamo visto ieri a Torino un suo commento prima poi di spostarci anche su altri temi legati al Napoli la prima la prima riflessione è che sicuramente la Juventus si sta nascondendo dietro un dito per non mettere sotto accusa il personaggio principale di questa vicenda cioè Allegri la Juventus è stata indecente come squadra ha proposto un gioco indecente e avrebbe meritato ampiamente di perdere adesso per carità il calcio in qualche modo si lega sempre agli episodi io mi sono stati due episodi nel finale abbastanza clamorosi uno ha consentito il pareggio alla Juventus e un altro è stato molto discorso e discutibile ma detto questo secondo me nascondersi dietro questi episodi per non tornare a quella che è la situazione di una squadra ormai secondo me allo sbando da un punto di vista di gioco e senza prendere provvedimenti che andrebbero presi sia sull'allenatore sia su uno dei massimi dirigenti come Network io allontanerei entrambi vuol dire non capire il problema e come dire allinearsi un pochettino alle lamentele di qualsiasi tifoseria ecco se adesso qualcuno dice ah voi del Napoli ce l'avete con la Juve perché vi lamentate sempre eccetera eccetera credo che ci sia buona parte ma non la maggioranza però eh ma buona parte anche di addetti ai lavori che stanno portando avanti delle lamentele veramente ridicole da questa giornata di campionato in attesa della Roma non sono emerse squadre lassù capaci di dominare il Napoli è riuscito a vincere all'ultimo respiro contro lo Spezia la stessa Inter contro il Torino ha faticato parecchio e è stata salvata da Andanovic il Milan anche a Genova contro la Samp ha fatto diciamo lo stesso ma chi è che può diventare l'ammazza campionato tra queste qui se ce ne sarà una ma io dico una cosa guardiamo bene le prestazioni le prestazioni vanno guardate in continuità il Napoli sta avendo degli alti e bassi ma quando ci sono degli alti è una squadra travolgente l'ho visto appunto con il Liverpool sì Milan stessa cosa l'Inter ancora deve trovare la quadra però bene o male sta ritornando quella quella come dire consistenza che ha sempre avuto la squadra sia di Di Conte sia di Inzaghi la Roma ancora non la considero la Lazio piano piano si sta facendo avanti quella che è assolutamente fuori dagli schemi e che continua a giocare male quindi si attacca agli episodi è la Juventus che è quella fuori io a massa campionato l'andrei a cercare tra quelle che ho nominato cioè Milan Inter e Napoli squadra che vince non si cambia anche se il turnover lo impone soprattutto questo calendario molto molto ristretto però il Raspadori visto contro lo Spezia è un Raspadori che merita ancora una chance in Champions oppure è stato un po' salvato dal gol soprattutto la sua prestazione ma guardate io dico questo perché non voglio inserirmi in polemiche antipatiche soprattutto hanno coinvolto colleghi che conoscono anche bene ma Spalletti va visto in un'ottica un pochettino più ampia e più serena perché anche lui non è un allenatore che predispone alla serenità anche con le sue risposte ma in aspetto è uno che prende cappelle fumantino e toscano quindi è così però ha una grandissima abilità lui sa ricostruire e poi soprattutto una cosa al contrario di quanto a volte qualcuno pensa o scrive lui fa spogliatoio come? perché? perché sapete che è l'unico allenatore che non fa eccezioni non ha fatto eccezioni con Totti non ha fatto eccezioni con Icardi e non ha fatto eccezioni con Mertens e quindi il resto della squadra che in un primo momento rimane un po' disorientata dice aspettiamo per vedere come si dice il braccio di ferro solitamente il braccio di ferro lo vince sempre Spalletti poi si schiera completamente con questo allenatore perché gli riconosce il carisma di prendere decisioni equanime cioè che in qualche modo non scontentano nessuno perché sono all'insegna dell'equilibrio e un allenatore del genere deve far giocare tutti deve far ruotare tutti e ci vuole un po' di pazienza da parte dell'ambiente e della piazza nel registrare i progressi di tutta la squadra nel suo insieme non soltanto di quella titolare domenica prossima comunque ci sarà già uno scontro bello importante in classifica Milan-Napoli che però non vedrà due protagonisti molto importanti Osimene assente a causa infortunio Leao invece è stato stato squalificato che partita sarà senza i due diciamo principali protagonisti perché sono i principali protagonisti delle due squadre oggi mi sembra che sia un annullarsi a vicenda bisogna vedere un pochettino le carte di riserva dalla parte del Milan ne credo qualcuna in più Origi De Kettler stesso che può inserirsi insomma ci sono ci sono giocatori che possono in qualche modo e dall'altra parte comunque Simeone L'Aspadore insomma sono giocatori che possono essere possono avere anche collocazioni diverse in campo per cui ecco non mi preoccuperei sotto questo aspetto perché non sono squadre appunto che vivono solo sulla presenza di pochi giocatori mi allaccia al discorso di prima a poca volta tutti diventeranno titolari e tutti potranno essere indispensabili vedrete L'Aspadore per esempio che è spinta che di fiducia avrà dopo questo collo così importante e delicato per cui sarà sicuramente un bellissimo spettacolo Direttore grazie mille davvero per essere stato con noi a Radio Punto Nuovo un abbraccio grazie a voi grazie grazie mille a Paolo De Paola abbiamo il programma giusto della giornata scozzese del Napoli tra un po' lo recuperiamo il nostro Giovanni Annunziata ci dà anche qualche indicazione intanto vi ricordo il 380 1272000 il nostro account Instagram Radio Punto Nuovo così come quello Twitter e anche il nostro gruppo Facebook Punto Nuovo Sport Show dove nella seconda ora leggeremo anche i vostri commenti sì perché dicevamo il programma della giornata di domani in vista della seconda giornata di Champions per il Napoli Napoli che si allenerà domani alle 11 presso il Napoli con Amitra in In Center di Castelvolturno 15 minuti i primi 15 minuti sono aperti alla stampa dopodiché la squadra proseguirà il suo lavoro prima di partire direzione Scozia ore 19 e 15 poi ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti e Franca Anghissà presso la sala stampa a Ibrox Stadium proprio lì a Glasgow e invece per quanto riguarda i Rangers allenamento alle 11.30 chiaramente sempre lì e non li vedremo qui prima della gara di ritorno ore 16.30 conferenza stampa di Van Bronkhorst e Steven Davis presso la sala stampa Ibrox Stadium un'altra giornata di pronunce che è davvero sudo ma già solo Van Bronkhorst che ha quattro pronunce diverse in base anche al dialetto olandese che si va ad utilizzare detto questo noi tra un minuto esatto ritroviamo il nostro Pietro De Concilis parliamo ancora di campionato lo faremo con un grande ospite qui a Radio.novo e poi dopo apriremo anche la pagina sul Benevento e poi dalle 14 lo speciale Napoli con tutti i temi tra Spezia Glasgow e Milana tra poco eccoci qua allora noi siamo già pronti con Pietro De Concilis e gli dico no prima ti presentiamo e poi dopo andiamo dall'ospite perché l'educazione prima di tutto Pietro buongiorno come sei cucciolo educato molto educato buongiorno sappiamo che ieri non è stata una domenica semplice a casa De Concilis dal punto di vista sportivo questo lo possiamo dire possiamo dirlo possiamo dirlo dallo stadio partenio Lombardi in poi non si è capito più nulla caro Alessandro però va bene così il calcio è questo e va accettato anche per questo quindi andiamo avanti e parliamo di cose che interessano più ai nostri amici tra un po' parleremo ovviamente con anche il nostro prossimo ospite parleremo di campionato e non solo con chi il calcio italiano lo conosce davvero come pochi intanto vi ricordo ancora il 380 127 2000 anche se avete commenti sulla gara di Spezia contro lo Spezia perdone se avete anche disagi tra virgolette da denunciare in vista di Glasgow perché ve lo anticipo nel finale di trasmissione ci collegheremo proprio con chi in questo momento è a Londra perché era tranquillamente lì diretto verso Glasgow ha dovuto fare dietrofronto proprio nei giorni in cui è stata diramata l'ufficialità da parte della UEFA anche perché bisogna anche qui sottolineare molti tifosi Giovanni erano partiti giustamente consapevoli con la gara del martedì magari ti fai due giorni domenica lunedì perché comunque Glasgow è una città magari non la più bella della Scozia però è vicina a Edimburgo quindi ti fai la giornatina fuori ti fai la vacanza tra virgolette e poi vai a vedere la partita tanti tifosi sono rimasti un po' lì appesi a quel servizio sì ma io mi chiedo adesso bene il biglietto della partita e quello sarà rimborsato però tutto il contorno non si può fare nulla non si può fare nulla è una cosa clamorosa ne parleremo nel corso della nostra seconda ora intanto teniamo i fari puntati sul campionato lo facciamo con un'istituzione il nostro calcio Rino Foschi direttore grazie mille per essere con noi a voi buongiorno a tutti direttore ieri abbiamo visto qualcosa di assolutamente singolare ovvero il finale di gara di Salerno poi ci spostiamo anche sul Napoli sulle altre big però immagino che nel corso della sua vita sportiva un episodio del genere di recente lo aveva mai testimoniato sarebbe qualcosa di assurdo soprattutto in epoca VAR io non so più non so è successo ne succederà ancora perché io mi ricordo dei vecchi tempi ancora quando c'era il povero Piscardi diceva la moglie la moglie la moglie crea dei problemi il VAR crea dei problemi o lo usiamo come dobbiamo usarlo o smettiamo di farci adesso ormai smettere non si può più perché è diventata una cosa europea però bisogna saperlo usare e usarlo meglio o cambiare cambiamo qualcosa cambiamo qualcosa perché crea di questi problemi e sono problemi seri perché a volte vede bene a volte vede male a volte richiama a volte non richiama non c'è una rigola ben fissa altrimenti noi noi talvi qua io mi chiedo nei piedi o nei panni di un tifoso non capisco se ha ragione di far chiamare o non chiamare l'altro chi chiede o non chiede non hanno mai spiegato spiegano in certa modo e poi con più spieghi e più sbagliano o più fanno in un altro modo quindi ieri sera la Juventus per riportare il discorso di ieri della Juventus che la Sede Tana ci ha guadagnato un risultato importante perché la Sede Tana sta facendo molto molto bene però gli episodi danno un po' di scontento e qualche critica c'è stata alla fine e oggi il giornale il sedatore si ha detto quando vanno fai i tifutti di Salerno con il Lecce da un'altra risonanza Salerno a Torino che scrive queste cose qui in casa della Juventus che voi sapete bene la Juventus e dopo comunque scriviamo si legge e scrivete tutto qua direttore ma non sarebbe più comodo ascoltare in presa diretta tutto l'audio nei dialoghi degli arbitri e parlare con i diretti interessati a fine gara intervistarli proprio per una maggiore chiarezza per una diciamo limpidità di tutto quello che succede e per capire quello che è stato quello che è successo non cambia niente e sarebbe ancora peggio e sarebbe ancora peggio non cambia niente voi pensate che uno da casa davanti al televisore senti il dialogo del VAR e l'altro sei sicuro? no non sono sicuro vai a vedere non vai a vedere un indeciso ho visto non ho visto una cosa non andiamo a complicare perdere il tempo in 90 minuti tanti come era il calcio come è sempre nato il calcio come il calcio e comparchiamo le cose io dico che bisogna mettere certe regole il VAR va chiamato quando è il momento se lo chiamo una sorta di ciali è una cosa è una cosa che va cambiata nel modo giusto nelle regole giusto io dico che ieri ho visto un rosso che è diventato un giallo perché il VAR ha fatto cambiare colore un rosso ufficio verso ieri ho visto questo qui anche e non esiste non esiste perché l'arbitro in campo è uno chi dirige è quello che è in campo non quello che è il VAR al limite del VAR le corrigge un qualcosa se non ha visto bene o chiede lui com'è stata questa situazione specialmente in un fuorigioco che è una cosa importante eccetera eccetera un fallo di mano evidente che non ha visto che è coperto e allora può ci portare ma le altre cose c'è una diseruzione non si chiede più sempre niente c'è una diseruzione un'arroganza dalla parte dall'altra parte rispetto a quello che è in campo e la figura chi la fa la figura brutta chi è più credibile chi è meno credibile non si capisce il calcio il calcio era bello anche con un era bello fino a un certo punto ha presidito parintesi era bello anche vincendo una partita con un errore dell'abito per dire che era una cosa che non si ripete però c'è una cosa ancora tanto tanto poco tempo fa non tanto tempo fa e quindi faccio fatica a rispondere io non sono non sono mai stato favorevole al VAR usati in un certo modo quindi sta parlando con uno dei lavori che non non credo molto al VAR usati in questo modo qui poi viene difeso in televisione viene cliccarato sono dei lavori arbitri in pensione che parlano ognuno dice la sua e ognuno ha il suo interesse per parlare e sta un po' sgretolando l'amore per il cazzo ve lo dico sta leggermente sgretolando l'amore per il cazzo soprattutto al momento del gol aggiungerei direttore però visto che come diceva bene lei non dobbiamo complicarci la vita continuiamo a parlare di calcio giocato perché è andato in archivio anche la sesta giornata del campionato di Serie A allora le chiedo tra sabato e domenica abbiamo assistito a dei risultati e delle prestazioni un po' particolari perché se la Juve non ha vinto con la Salernità in una partita sulla carta alla portata invece Napoli e Inter soffrendo e faticando hanno vinto questo tipo di partite di misura il Milan ha fatto lo stesso a Marassi contro la Sampdoria questo cosa vuol dire che segnale è per il campionato secondo lei è un segnale positivo per quello che concerne lo spettacolo per quello che concerne i tifosi non dimenticatevi quattro anni fa c'era una squadra che vinceva la seconda aveva 20 punti di stacco addirittura la terza ne aveva 30 però se non siamo qui sono 15-20 sbaglio di poco oggi ci sono 5-6 sette squadre fino alla fine si contendono una piaccia importante o per l'Europa o per vincere anche un campionato e di dietro uguale nella retroguardia per salvarsi quindi vuol dire che sono vissuti i discorsi degli incontri delle squadre che si sono a vanguanti equilibrate è tutto a favore dello spettacolo del calcio sicuramente sicuramente non è più come amore e come tutto il resto quel calcio degli anni dei Fraizoli dei Cazzaino tutti questi presidenti che avevano la passione e ne mettevano adesso con interesse particolare operazioni particolari plus benovalenze eccetera 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 bilanci è diventato un po' più equilibrato interessi molto importanti tra gli stati è cambiato è cambiato molto signori è cambiato molto però il calcio se tolti il calcio alla gente all'Italia all'Europa questo di calcio non esiste e quindi bisogna anche accontentarci di quello che succede e cercare di smussare e cercare di far rendere meno grave l'errore che può fare un arbitro direttore come sempre grazie mille per essere stato con noi Radio Punto Nuovo in bocca al lupo per tutto buongiorno grazie mille al grande Rino Foschi 40 secondi apriamo la pagina anche sulla serie B perché sono venuti fuori tanti risultati molto molto importanti e poi ancora il punto sulla terza serie e poi alle 14 lo speciale Napoli di Punto Nuo Sport Show che riparte perché la serie B è stato un turno molto molto combattuto con il Benevento che ve lo raccontavamo già da sabato nell'edizione dei prepartita di Napoli Spezia che è caduto 2 a 0 in casa contro il Cagliari ne parliamo con il collega di tutto sport Gianluca Scaduto Gianluca grazie mille per essere con noi grazie a voi sempre un piacere ciao immagino per te turno che non è partito benissimo con l'anticipo del venerdì del Barbera cattivissimo però sono gare che hanno secondo te anche dato qualche indizio in più su quella che può essere la lotta quantomeno di qui ai prossimi i prossimi mesi e quantomeno alla fine della prima parte di questo campionato di serie B perché comunque il Parma che frena ancora il Frosinone che era partito bene e poi frena con il Cittadella il Brescia che sta riprendendo il Venezia che continua ancora a versare uno stato di crisi che serie B si sta defilando secondo te? guarda magari sarò smentito perché magari qualcuno riesce ad andare in fuga ma io ho l'impressione che ci sia lo stesso equilibrio della passata stagione quando siamo arrivati all'ultima giornata con quattro squadre che lottavano per la per la diretta io metterei anche il Bari perché il Bari è l'unica squadra che non ha ancora perso è a nove punti quindi comunque a meno tre dalla vetta ha questo che dira che è stato appena convocato dal Marocco speriamo che non diventi un rimpianto in azzurro perché lui adesso col Marocco giocherà due amichevoli contro Cile Paraguay a fine mese potrebbe essere convocato per i mondiali se disputasse delle partite col Marocco in Qatar non sarebbe più convocabile per l'azzurro Mancini ha detto che avrebbe avuto un occhio di riguardo anche per i giocatori di serie B in questo momento lui è il miglior bomber d'Italia diciamo perché in partito ufficiali ha assegnato nove gol di cui quattro in campionato nelle ultime quattro partite appunto il Bari sabato ha vinto a Cosenza con un suo gol è il suo momento è anche il momento del Bari che appunto non lo tirerei fuori perché hanno una certa solidità se non prendevano il 2-2 in rimonta nel penultimo turno con la spalla sarebbero stati loro anche lì è veramente difficile dire chi possa emergere il mio geno ahimè è una squadra l'ho seguita attentamente venerdì sera sulla carta è sicuramente la squadra più forte perché se guardiamo solo gli ultimi acquisti che probabilmente sono ancora un po' indietro di forma Strotsman Puskas e Aramu uniti al telaio che c'era già era una squadra che dovrebbe essere a livello di Regine Brescia purtroppo per me è a soltanto 8 punti e penso ci sia anche un equivoco un equivoco tattico nel Genoa perché Coda si pesta i piedi con Ecuban Coda sta facendo l'assistman per Ecuban e Ecuban i gol se li mangia e Coda li farebbe soltanto che gioca per lui e nel Lecce la squadra era un po' diverso l'assetto Gianluca proprio questo ti stavo per chiedere perché se nell'ambiente reggino hanno trovato in Filippo Inzaghi un signore allenatore per la Serie B quantomeno ricordo sempre le frasi di Allegri quando diceva che ci sono le categorie per gli allenatori e per i giocatori e Filippo Inzaghi sembra tagliato perfettamente per una Serie B a vincere per intenderci ecco in Casa Benevento criticano tanto Fabio Caserta ma anche il Genoa sembra avere un problema allenatore non so se sei d'accordo lì c'è anche un vincolo contrattuale piuttosto pesante dell'anno scorso eh sì diciamo che in questo momento Blessin al Genoa è più discusso dalla piazza che dalla società penso sia rarissimo trovare il caso di un allenatore che retrocede e viene confermato e in sé come idea non era sbagliata nel senso che il Genoa è retrocesso per i punti che non ha fatto durante la gestione eh Shevchenko che aveva fatto un punto in nove partite con la media punti tenuta in A da Blessin eh il Genoa non sarebbe retrocesso è un allenatore con questo gag and pressing che ha da un'inquadratura poi però la B bisogna conoscerla ecco io eh a Palermo sicuramente hanno fatto una partita come dicevo prima un po' troppo presuntuosa eh hanno avuto le loro occasioni potevano pareggiare forse anche vincere però ci sta che che abbiano perso anche perché ha fatto bene Corini a insistere sui nuovi acquisti che venivano da due sconfitte di fila e che però alla lunga si sono si sono dimostrati poter dare quel quel di più che serve al Palermo adesso nel Palermo ci sono due massimo tre giocatori del della promozione e tutti gli altri è gente da 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 alta serie B se non da serie A Saric doveva andare in A e soltanto che la Samp non aveva i soldi per prenderlo e alla fine l'ha preso il Palermo per fare un esempio ecco e adesso io inizio a pensare un po' ti dico alcuni nomi Fabregas Cutrone Mancuso Cherry ma questo Como che cosa sta facendo cioè questo è il chiaro esempio di come le figurine non facciano la squadra esattamente guarda è da stamattina che ci sto lavorando sul Como per cercare di capire lì c'è di mezzo anche la la delicata situazione di Gattuso sì che ha dei problemi di salute non va in panchina dalla dalla prima giornata e stiamo cercando di capire come lo sostituiranno sicuramente la vicenda sta avendo un suo peso però è anche vero come dici tu che la campagna il mercato del del Como è ampiamente discutibile Cutrone è uno dei pochi che si sta salvando anche se appunto passare dal Wolverhampton alla B al Como io ho l'impressione che Cutrone sia il nuovo Paloschi diciamo tutte e due partiti dal Milan e adesso Paloschi è in C a Siena su Fabregas Fabregas tra l'altro ha provocato il rigore del 2 a 0 è in condizioni ma lo sapevamo già è in condizioni atletiche precarie è in grado di giocare sì e no l'ultima mezz'ora a Frosinone non era andato perché aveva avuto poco prima della partenza un risentimento i classici problemi che ti vengono quando parti dopo hai già dei problemi fisici lui è seguito da da un fisioterapista suo quindi io ho l'impressione che Fabregas magari potrebbe avere più futuro nel Como come dirigente o altro visto che è entrato anche nel capitale sociale lui si vuole trasferire lì il Como è vicino alla Svizzera e manderà i figli a studiare in Svizzera quindi ha fatto una sorta di scelta di vita però sulle scelte oltre a lui mettiamoci anche giocatori come come Baselli e Faragò che non so quanto possano ancora dare e quanto siano integri fisicamente e anche lì appunto si torna al discorso sono figurine sono nomi spendibili e poi devi vedere la resa loro stanno molto aspettando Ciaia che l'anno scorso prima di farsi male spaccava in due le partite era l'uomo in più del Como ed era un giocatore spendibile anche in Serie A io lo seguo dai tempi che era uscito dal vivaio del Novara questo aveva solo bisogno di qualcuno che scommettesse su di lui potrebbe essere la carta per la riscossa certo che Como Pisa e Modena il Modena che a tre punti ha vinto solo Edene con la Ternana 4 a 1 ne ha già perse 4 su 5 iniziano a essere un po' è allarme rosso diciamo per tutte e tre Per salutarci Gianluca un ultimo te la faccio anche sul Benevento in 40 secondi si sta tornando di nuovo a un po' di isteria anche per quanto riguarda la sconfitta con il Cagliari nessun allarmismo normale alti e bassi di inizio stagione oppure il 3-5-2 di Caserta inizia a dare qualche segnale negativo Allora se prendi in avanti Lagumina tieni forte e prendi Simi devi giocare con il 3-5-2 perché se torni al 4-3-3 ne devi tenere fuori 2 su 3 è chiaro perdere così un po' da fastidio perché hai preso il 2-0 in superiorità numerica il Cagliari probabilmente sta ingranando è di un'altra categoria sulla carta sarebbe secondo solo Algeno ha avuto un po' di problemi fondamentale secondo me è stato quando hanno preso Mancosu che tornando a casa mi sembra dopo 12 anni sta veramente è è l'allenatore in campo da da quel qualcosa in più alla squadra che nelle prime due giornate quando non c'era si vedeva che mancava però insomma c'è modo e modo di di perdere ecco io aspetterei ancora un po' sette punti con squadre importanti giocando col 3-5-2 sono arrivati e non è bello perdere così ma comunque aspetterei cioè in questo grande equilibrio della serie B ci sta in questo momento essere a centro classifica io prima di tornare alla difesa 4 ci penserai un attimo ecco ci sta a perdere con il Cagliari tra l'altro in casa in serie B non è uno scandalo contro una squadra del genere tra l'altro Gianluca grazie come sempre per essere stato con noi è stato sempre un piacere grazie a voi è sempre un piacere un abbraccio ciao grazie mille Gianluca scaduto Pietro abbiamo dei contributi da sentire allora ti faccio fare gli onori di casa anche a distanza prego sì perché abbiamo gli onori di a distanza per Pasquale Padalino allenatore della Turris perché ribadendo un po' i risultati delle campane di ieri fra poco andremo a parlare anche di Avelino ovviamente al pomeriggio da supereroi la Turris ha sfatato un tabù battendo la Juve Stabia all'eromemente di Castellammare di Stabia ovviamente una vittoria che mister Pasquale Padalino ha voluto dedicare ai tifosi corallini che non erano presenti nella Tana delle Vespe l'Avelino ha impattato 0-0 con la Gelbison prima sconfitta anche per il Giuliano di Di Napoli all'odace Cerignola ma parlavamo di Turris e allora direi che è il momento di andare a sentire cosa ha detto mister Pasquale Padalino in conferenza stampa ovviamente molto molto soddisfatto questa vittoria ovviamente la voglio dedicare a coloro che non erano presenti e a tutta la città e anche alla società che comunque mi ha dato fiducia e la possibilità di lavorare partendo tra virgolette dall'inizio ed è una bella soddisfazione ci dà la consapevolezza che abbiamo una squadra che può dire la sua in questo campionato ovviamente non è un risultato che cambia quelli che sono diciamo così gli obiettivi perché non dobbiamo assolutamente montarci la testa perché se fosse sempre così sarebbe bellissimo però sappiamo so che andremo incontro delle difficoltà però dobbiamo essere bravi a non e lucidi a non smarrire diciamo la strada che abbiamo appena iniziato insieme quindi consapevolezza contenti però tra tre giorni c'è già un'altra gara e dobbiamo essere già proiettati a quella Così mister Pasquale Padalino ovviamente molto soddisfatto lui grande ex della partita tra l'altro parole al miele anche per la Juve Stabia che non deve lasciarsi condizionare da questo risultato ragazzi credo che sia stata una seconda giornata di Serie C piuttosto interessante direi non per l'Avellino ma per il fatto che cominciano a correre e molto anche le due calabresi lì davanti io immagino avete preparato una scaletta oggi anche un po' per rispondere alle tante domande che al 380 127 2000 il numero è congiunto quindi leggiamo anche noi i tanti messaggi che arrivano immagino che avete tante risposte con Dino insomma sarà un lunedì bello pieno un lunedì molto ricco tra l'altro i messaggi che già arrivano ovviamente anche dal post partita della giornata di ieri molto molto caldo tanta delusione ovviamente per aver regalato il primo punto tra i professionisti alla Gelbison che ha fatto una signora partita lo abbiamo raccontato tramite la voce di Dino Manganiello anche nella provincia di Salerno proprio per i tifosi della Gelbison che anche ieri sono giunti numerosi un centinaio al partenio Lombardi si sono fatti sentire insomma una bella giornata di sport più per la Gelbison che per l'Avelino chiaramente per quanto riguarda il risultato però il fatto sta che il dato che interessa i tifosi biancoverdi è che zero gol fatto in due partite e uno subito non possono far ben sperare soprattutto non possono far star tranquilli i tifosi biancoverdi detto ciò non c'è tempo di respirare perché fra due giorni c'è la trasferta di Monopoli la seconda delle tre partite in una settimana e l'Avelino ha subito la possibilità di riscattarsi e questo può essere un bene per dimenticare subito quanto non fatto nelle prime due giornate di campionato però è anche vero che bisogna analizzare quanto abbiamo visto nella giornata di ieri e lo faremo ovviamente al pomeriggio da supereroi dalle quattordici alle quindici con Dino Manganiello ciao allora grazie mille a Pietro De Concilis buon lavoro a lui e a Dino Manganiello che ovviamente avranno anche tanti straordinari tra virgolette da trattare in questo day after la sfida tra Avellino e Gelbison per quanto ci riguarda invece speciale Napoli che parte tra poco meno di due minuti avremo tanti temi sul tavolo da trattare ovviamente la questione Rangers Napoli perché apriremo ancora una volta i fari sulla questione tifosi tanti napoletani che sono stati costretti a fare dietro fronto sono anche situazioni complicate non vi nascondiamo che abbiamo provato anche ad interpellare quelle che sono le istituzioni britanniche sia sul suolo italiano sia quelle italiane sul suolo britannico quindi abbiamo cercato davvero di contattare un po' la qualunque ma ovviamente il protocollo per il lutto nazionale legato alla scomparsa dell'Unione Isabetta è molto ferro e quindi dovremo attendere ancora un po' per sentire i protagonisti tra qualche minuto però speciale Napoli con il sottoscritto con Giovanni Annunziata vi aspettiamo che riparte quando sono le 14.01 lo speciale Napoli di Punto Nuovo Sport Show che parte sempre col sottoscritto con Alessandro Montano con Giovanni Annunziata tra un po' con i vostri commenti al 380-127-2000 con tutte le vostre curiosità sia al nostro account Instagram sia al nostro account Twitter Radio Punto Nuovo e poi anche sul nostro gruppo Facebook Punto Nuovo Sport Show a mio avviso l'aspetto più disgustoso di quanto capitato ieri sera a Torino è che se lo stesso episodio fosse accaduto contro la Salernitana sarebbe tutto passato sotto silenzio perché capita Cristiano Dorsi ci ha scritto così al nostro gruppo Facebook tra un po' recupereremo anche i tanti commenti che ci avete mandato già nell'immediato post partita di questo weekend molti fate anche complimenti a quello che è Simone Giannelli il Maradona del Volley così qualcuno si è definito si è divertito a definirlo appunto nel nostro gruppo però dopo andremo poi nello specifico con tanti commenti intanto ci sono le parole di Vicia Varaschelia al Daily Record ovviamente giornale quotidiano scozzese che ha avuto il piacere di chiacchierare con il calciatore giorgiano giocare la Champions è il sogno di qualsiasi calciatore racconta Varaschelia è presto per dire dove possiamo arrivare nel girone ma è certo che diremo la nostra siamo molto contenti di aver battuto uno dei club più prestigiosi d'Europa come il Liverpool ma fa già parte del passato adesso tocca pensare alla gara di Glasgow non sarà un match facile perché loro giocheranno davanti al loro pubblico sappiamo dell'atmosfera elettrica magica che si respira su quel campo spingeranno molto per portare a casa un buon risultato ma confidiamo in noi stessi nel poter andare a fare il risultato anche lì Ciccio Marolda buongiorno grazie mille per essere con noi buongiorno a voi buongiorno a tutti Ciccio tra Glasgow e Milano passa il vero esame di maturità di questa squadra abbiamo parlato tante volte con la Fiorentina con la Lazio è anche un termine un'espressione molto abusata anche banalizzata però tra Glasgow e Milan il Napoli può dire che pasta è fatta la squadra di Spalletti e può dire anche di che pasta sia fatta la stagione che proverà a fare ecco diciamo che sono sue tappe importanti per capire ancora meglio quale futuro può aspettare il Napoli sono sue tappe importantissime ovviamente perché fare risultato a Glasgow azzardo vincere a Glasgow significherebbe già fare un bel passo avanti dopo aver messo sotto il Liverpool verso la qualificazione e il superamento ovviamente dei gironi e poi c'è lo scontro col Milan lo scontro col Milan non serve soltanto a chi vince ad avere la spinta ad andare avanti a trovare il primo posto a consolidare il primo posto in classifica ma serve anche a far capire a tutti gli altri che la squadra che vince fa più serie ciccio ma tu ti aspettavi una gara del genere contro lo Spezia oppure non so ti aspettavi una gara più semplice un Napoli più diciamo che che la iniziava già a risolvere fin da subito come ad esempio contro il Monza c'era un po' presumptuoso guarda nella risposta letta la formazione me l'aspettavo qualche difficoltà che dico la verità perché il Napoli si è dato ormai una fisionomia il Napoli sempre tutto dito ma ha una formazione non base una formazione tipo sulla quale può agire un poco all'inizio proprio quello che serve che è indispensabile all'inizio e poi può fare quello che vuole con i cinque cambi provare a rivoluzionare l'assetto felice che si è dato invece il Napoli facendo quattro cinque cambi tutti assieme e affidandosi a giocatori che non sono neanche nella migliore condizione atletica significa significa soffrire perché oggi tu contro qualsiasi squadra non esiste grande piccola media se regali qualche uomo e se giochi sotto ritmo come ha giocato il Napoli si dice che poi il contrasto anche perché si sono visti un paio di calciatori ancora in difficoltà però va fatta anche la tara ciccio con un calendario che un po' ti obbliga al turnover mi dai un tuo giudizio sulla prestazione di Ndombele e sulla prestazione di Raspadori fino al momento del gol allora abbiamo diverse letture di questa di questa partita possiamo dire che quando vinci hai ragione e se poi vinci tenendo in campo un giocatore che è stato se non il peggiore insomma tra i peggiori in campo mi riferisco a Raspadori e questo giocatore ti fa vincere pure allora sei un mostro di bravura perché nel calcio se vinci sei bravo e questa è la lettura diciamo più semplice poi c'è neanche un'altra è ancora più semplice il caro Napoli ti è andato molto bene perché immagina se già Gaetano non liscia quel pallone e Raspadori non mette in porta quel pallone a fil di palo adesso saremmo discutendo di altre cose cioè della sindrome delle squadre piccole dei cambi di spalletti e quindi il calcio è fatto così insomma quindi bisogna essere sereni però senza nascondersi che questo Napoli ha una formazione tipo e deve andare avanti con quello quanto più possibile poi scettano le soste a novembre si ferma tutto sono ragazzi che hanno voglia di giocare e hanno il piatto per farlo quindi andiamo avanti fino a novembre facciamo punti il più possibile perché poi comincerà un altro campionato punti a capo adesso testa la Champions chiaramente mi hai chiesto scusa vai vai concludi sì di Don Belè prego mi hai chiesto di Don Belè non voglio scusare la tua domanda certo Don Belè è un gran bel giocatore però è un giocatore che deve fondare il suo calcio su una soordinaria condizione atletica allora tu dove lo metti lo metti vedi che a un certo punto piglia e palla fa degli scappi bellissimi se ne va avanti e partecipa al gioco che lo apre il gioco non abbiamo visto nulla di tutto questo non solo ma nel primo tempo lui ha toccato 24 palloni e nessuno di questi palloni è stato un pallone illuminante per la squadra mentre invece quando è entrato Lobotka è il giocatore uno dei giocatori più in forma e insostituibili in questo momento nel Napoli Lobotka hanno giocato più del doppio l'apertura lontano per i gol è stata sua ha dato più vittima ha dato più verticalità più dinamissima alla squadra mi rendo conto che non può giocare sempre però deve essere sostituito da chi ha creato il rigore ma possiamo dire che questo Napoli è Lobotka dipendente no questo Napoli è dipendente con merito a Spalletti dal gioco che riesce a fare perché il vero valore aggiunto di questo Napoli il vero leader di questo Napoli è il gioco un gioco affidato a gente che riesce a farlo quindi merito a Spalletti per quello che ha fatto mettendo insieme una squadra di non grandi campioni ma di gente che corre che fa quello che dice lui ed è merito a Spalletti quando poi è un po' testardo e ci esiste che i giocatori ancora non è la condizione migliore che faccio ovviamente ci sono tanti disagi per la trasferta di Glasgow noi tra un po' apriremo anche una pagina importante con la nostra scaletta impossibile prima di salutarti non chiederti un commento anche da tifoso del Napoli da persona che segue questa squadra da tantissimo tempo e forse è stato va bene c'è la straordinarietà dell'evento storico questo è chiaro però l'interdizione del pubblico i tanti disagi è qualcosa che magari macchia un po' anche quella che è stata la logistica la gestione di una trasferta del genere purtroppo è capitato un evento davvero che non si poteva prevedere soprattutto un evento che coinvolge quel paese insomma quindi di questo bisogna tener conto è vero anche che non capisco perché poi 24 ore di ritardo 24 ore di riettamento della partita soprattutto non capisco la parte della weba perché una volta che è stato tutto il giorno dopo perché non dare a Napoli la possibilità di rientrare in tempo tempo utile a me non la mattina dopo quasi in Italia anticipandosi un poco un paio dopo tra le 18 e 45 la partita questo non lo capisco però il fatto delle presenze degli spettatori penso penso che la polizia insomma il loro ministero dell'interno non abbia voluto correre rischi essendo impegnati tutti nell'organizzazione sorge un avento assordinario si poteva si poteva gestire meglio sicuramente però insomma anche se non sono d'accordo però comprendo i motivi che sono alla base di questa decisione Ciccio grazie mille davvero per essere stato con noi a Radio Punto Nuovo grazie a tutti alla prossima al grande Ciccio Marolda tra un po' apriremo appunto una pagina importante sulla questione Glasgow anche perché in tanti tifosi continuate in molti ancora a scriverci chi di voi ha dovuto anche fare dietro al fronte praticamente ha partenza già avvenuta è qualcosa anche di molto scomodo sono anche periodi molto complicati e sono parliamo anche chiaramente sono zone anche d'Europa per quanto ormai non facciano più parte a livello politico la Brexit e tutto però sono anche zone un po' scomode dal punto di vista del costo da raggiungere non sono certo mete low cost da poter così anche darsi un pizzico sullo stomaco per un tifoso per un tifoso medio per chi magari ha magari appunto organizzato questa trasferta con la famiglia al seguito non è qualcosa di semplice da annullare e da digerire quindi è anche giusto poi seguire e tenere i fari puntati anche il Kodakons se ne sta occupando come hanno giustamente interpellato gli amici di Calciapoli 24 il presidente Rienzi che appunto ha spiegato e spiega tutte le modalità su come poter in qualche modo provare a recuperare questi questi soldi appunto della trasferta saltata noi ne parliamo ed è un piacere farlo con un grande grandissimo tifoso del Napoli forse riduttivo onorevole Gaetano Guagliarello presidente club parlamentare Napoli grazie mille per essere con noi grazie a voi per l'invito stavamo discutendo anche con il collega Ciccio Marolda sulla straordinarietà dell'evento storico che ovviamente è occorso in Gran Bretagna ma anche dei tanti disagi che ne sono nati come si può trovare una sintesi dal punto di vista anche delle amministrazioni delle istituzioni dal punto di vista anche diplomatico nel gestire così tanti eventi e cercare anche di non scontentare i tifosi del Napoli tanti tifosi del Napoli che non solo dall'Italia ma anche dal resto d'Europa si erano mossi per raggiungere Glasgow guardi la morte la morte della regina oggettivamente è una cosa che insomma nessuno poteva immaginare ed è come lei dice un evento mondiale perché stiamo parlando forse della persona che ha più segnato il secolo scorso e l'inizio di questo di questo secolo detto questo io credo che quello che sta creando veramente delle difficoltà che la società dovrebbe tenerne conto per il possibile perché è il combinato disposto tra questo evento e la chiusura degli spazi agli ospiti questo evidentemente ha creato una fortissima una fortissima difficoltà in questi casi visti anche i tempi trovare delle soluzioni diciamo che riescono a risolvere completamente il problema è molto difficile quello che si deve cercare di fare è applicarsi sui differenti casi e di volta in volta cercare di comprendere se c'è una possibilità che in alcuni casi può essere appunto un ristoro e questo è stato già previsto di quello che è stato speso ma in altri casi non può essere questo perché a me risulta credo anche a voi di tifosi che sono già lì e che hanno affrontato le spese assolutamente eccetera e questi evidentemente sono i casi più difficili comunque ci stiamo provando in tutti i modi e chiaramente è accaduto un evento mondiale come quello della morte della regina però comunque questa partita è stata spostata di solo i 24 ore ma che cosa cambiano 24 ore? No in questi casi ci sono dei protocolli molto stretti voi sapete meglio di me che insomma la regina era il capo di uno stato nel quale confluiscono quattro nazioni e sapete anche che in particolare la Scossia è stata diciamo anche protagonista di richieste di indipendenza che sono insomma state rigettate non diciamo a furore di popolo e quindi insomma in questo caso gli equilibri sono veramente equilibri incredibilmente fragili di cui bisogna tener conto non è un caso che insomma la morte di un sovrano nel Regno Unito è programmata da un protocollo segreto che è approvato precedentemente e che evidentemente poi entra in azione nel momento nel quale insomma l'evento si crea quindi insomma è difficile ora stare a questionare sulle 24 ore io penso che il problema però è quello di dare la possibilità a chi sta lì di vedere la partita anche se con 24 ore di ritardo magari appunto tener conto del fatto che stia lì e cercare di aiutarlo rispetto alle spese sostenute ma a me risulta che il problema è anche di persone che sono già lì che avrebbero la possibilità di rimanere un giorno in più ma che non hanno la certezza di vedere la partita ecco questo credo che sia il caso peggiore prima accennava onorevole ci stiamo provando in tutti i modi in che senso con quale modalità anche attraverso l'impegno club parlamentare Napoli lei anche attraverso il suo lavoro in parlamento non ha mai provato non ha mai nascosto un grande impegno mettiamola così sì abbiamo parlato diciamo così con in alcuni casi appunto con le nostre autorità diplomatiche perché potessero aiutare alcune situazioni e in altri casi abbiamo cercato di risolvere insomma stiamo cercando anzi di risolvere il problema di alcuni tifosi mettendoli in grado comunque nelle condizioni date nei modi possibili di poter assistere all'incontro onorevole sono interventi sono interventi spot non sono interventi che possono risolvere tutto e questo non è nelle nostre possibilità però in ogni circostanza si fa il possibile lei è anche un grande tifoso del Napoli iniziando ad avvicinarci alla Champions si sente la musichetta che abbiamo ascoltato già quasi una settimana fa quanti ricordi e quali sono soprattutto i ricordi che le ha lasciato una notte magica come quella contro il Liverpool insomma ha fatto venire in mente una notte come quella i tanti sacrifici tra virgolette che si sono fatti come come tifosi noi appunto abbiamo seguito la squadra anche quando era in Serie C e magari appunto uno ricorda anche tante trasferte nelle quali la squadra non è andata bene ricordavo se devo dire visto la squadra con la quale ci siamo battuti ricordo quella partita col Chelsea allenatore Mazzari Mazzari nella quale avevamo vinto all'andata 3 a 1 e io ero a Chelsea alla fine del primo tempo segnò Inle e sembrò l'1-1 che la qualificazione fosse a un passo poi perdemmo ai tempi supplementari ecco fu una grande amarezza essere arrivati fino a lì e tra le altre cose all'andata ci fu un gol di maggio che non entrò per pochissimo che ci avrebbe messo in una condizione di assoluta sicurezza e una partita come quella del Liverpool per esempio ti ha ripagato di quell'amarezza Onorevole è stato davvero un privilegio vederla avere qui a Radio Punto Nuovo grazie mille alla prossima all'Onorevole Gaetano Quagliarello che abbiamo davvero strappato ai suoi impegni di giornata al volo davvero l'abbiamo preso così tra due minuti invece torniamo a parlare di Napoli perché questa è una settimana importante tra Glasgow Milano lo anticipavamo prima anche con Ciccio Marolda continuiamo ad approfondire tutti i temi 320 secondi che riparte quando sono le 14 e 22 ancora lo speciale Napoli di Punto Nuovo Sport Show con Alessandro Montano con Giovanni Annunziata con i vostri commenti al nostro gruppo Facebook ancora in molti ieri anzi l'altro ieri non siete rimasti convintissimi da quella che è stata anche la la formazione lo anticipava prima anche Ciccio Marolda ancora Cristiano prendetevi tre punti senza criticare sempre e comunque spesso anche senza fondamento e ancora c'è chi posta l'immagine di Raspadori come Carmine Buda massacrato da tutti per 90 minuti io per primo poi zittisce il pubblico io dico che questo ragazzo sarà il futuro del Napoli vedremo ne parliamo con il direttore napolista Massimiliano Gallo ciao Max come stai buongiorno ciao buongiorno a tutti Max Raspadori massacrato forse tra i migliori tra i peggiori in campo pardon fino al momento del gol poi anche la rete che un po' gli sgrava la tanta pressione che si era posizionata sulle spade di questo giovane ragazzo titolare ancora con le stigmate delle rete di Mertens c'è una narrazione che rischia un po' di bloccare Giacomo Raspadori va lasciato tranquillo come ragazzo non sempre anche paragonato a quello che era il passato del Napoli allora guarda va lasciato tranquillo queste allora i calciatori ma questo vale anche per gli allenatori guadagnano soldi tanti soldi cioè quasi in maniera vergognosa se volessimo usare un linguaggio vetero comunista quindi non posso non posso essere lasciati vengono pagati tanti soldi e quindi devono accettare il gioco delle responsabilità e anche il gioco del pollice verso pollice su questo vale per i giocatori come vale per gli allenatori secondo me l'Aspadori non c'entra quasi niente con Mertens l'Aspadori per me è un calciatore d'aria di vigore è uno che il meglio lo dà nell'aria di vigore poi gli piace anche l'1-2 però questa questo volerlo trasformare in una sorta di centravanti arretrato di numero 10 secondo me è sbagliato lui è forte lì come ha dimostrato poi anche con con il gol che è un gol che sembra semplice ma in realtà non è non è così semplice poi secondo me non è stato massacrato insomma non ha giocato male quella partita ma alla fine della partita poi anche ha anche segnato cioè non ricordo anzi non ricordo che il suo acquisto tra l'altro il Napoli lo ha pagato decisamente più del suo valore almeno in questo momento certo non è un calciatore che vale 35 milioni fu salutato con grande insomma faccio un'ovazione da parte di i difusi del Napoli quindi francamente non l'ho mai visto massacrato da i difusi zoomando anche su quella che è stata la questione ovviamente il tema caldo di questo lunedì Juventus Salernitana tante polemiche è anche una questione arbitrale prima ne parlavamo con l'ex arbitro Piero Ceccarini anche di una questione di cultura ieri ha cerchiato Mercenaro al momento dell'onfield review ci sono delle immagini che dimostrano che Candreva è oggettivamente molto in linea con Bonucci anche se stanno spuntando nuovi fotogrammi si può parlare di fuorigioco gate arrivati già al 12 settembre il problema è che gli arbitri c'è in Italia non si riesce ad avere una classe arbitrale dirigenti arbitrali responsabili arbitrali che spiegano le loro decisioni quindi c'è il fuorigioco gate perché l'arbitro annulla un gol e già sembra gol perché di fatto è difficile da comprendere quanto un gol ci possa essere attivo su quel colpo di testa poi si immagina chi percepisce chi capisce tutto il lavoro che ha fatto dalla denuncia diciamo di Sky di caresta ieri sera che il bar non avrebbe tenuto in conto la posizione di Candreva ma ora sono passate 12 ore come hai detto tu si alternano sul web immagini di diverso tipo con linee tracciate diversamente dovrebbe qualcuno della classe arbitrale dovrebbe dire allora le immagini sono queste avevamo ragione noi no avevamo torto abbiamo sbagliato ma questo in Italia non avvenga sento che esiste la trasparenza in ogni settore italiano ma anche europeo mondiale guardi chi no ed è una condizione accettata da tutti io la trovo una follia assolutamente su questo sono totalmente d'accordo e aggiungo anche la mancanza di comunicazione nel 2022 avere un arbitro che quantomeno può un corpo arbitrale un ente arbitrale che prenda parte ai salotti alle radio ma già solo con un comunicato anche spiegare i motivi che ci sono dietro ad un episodio del genere che Max parliamoci chiaramente se ci fosse un errore tecnico così grave il VAR vede la propria credibilità smontata quasi del tutto allora il punto qual è è che gli errori tecnici possono essere commessi anche dal VAR certamente sono più gravi quelli commessi dal VAR ma certamente dovrebbero essere ammessi pubblicamente è un errore come successo per Spezia Lazio come successo per Spezia Lazio esatto in quel caso fu ammesso poi l'errore mi pare assolutamente quindi dovrebbero dire oppure dovrebbero dire no non abbiamo sbagliato però certo così perché è un uomo che decide la partita insomma per carità la Juve avrebbe meritato di perderla quella partita anche 2 a 0 e non 2 a 1 ma io ancora non ho capito perché l'hanno annullato per il dove il gioco è attivo di Borussia cioè io insomma voglio calci da tanto tempo faccio fatica se guardiamo a norma di regolamento prova di intervenire di testa e quindi attiva la sua giocata poi tocca non tocca il pallone ma comunque crea disturbo all'intervento di Sepe se guardiamo regolamento se guardiamo regolamento riporto quello che anche è portato alla maviola della gazzetta del Corriere dello Sport riporto dopodiché c'è un problema di immagini e comunque di chiarezza vero dovrebbe essere ma questo vale perché vale per tutte le partite oggi è capitato ma è così difficile avere un arbitro che parla a fine partita questo ne parlavamo appunto dicevamo proprio questo non è non esiste in Italia quando arrivò Trenta Lange disse che sarebbe partita l'operazione di trasparenza e l'operazione di trasparenza è stato poi è stato che non avviva il TQ per parlare di quei famosi risodi lui non aveva visto il fallo perché era troppo vicino ma quello che mi sconvolge è che tutti si adeguano a questo cioè è come se ci fosse un enclave ultimo enclave di comunismo reale al mondo pure più di Cuba e sono gli arbitri italiani e nessuno dice niente ma è meraviglioso cioè è un fenomeno sociologico antropologico da studiare perché non esiste più niente al mondo cioè ci sono telecamere ovunque riconoscono assassini e stupratori di tutto gli arbitri niente sono decidono loro vivono in una roccaforte attaccati non espugnati Max mi attendi 20 secondi poi rientro perché ti voglio porre una questione molto delicata anche sulla figura di Luciano Spalletti 20 secondi Max tu non hai mai nascosto la tua grande stima per Luciano Spalletti come allenatore come gestore anche per come ha ricostruito l'ambiente Napoli dopo la gestione di Gennaro Gattuso nelle conferenze stampa però sia post Liverpool soprattutto post Spezia il tecnico qualche sassolino dalla scarpa si è retolto è chiaro ha fatto il giro del web anche la polemica con un noto giornalista di Napoli per quanto riguarda la questione dello spogliatoio il litigio perché si utilizza sempre lo stesso cliché quando si parla di Spalletti quando fondamentalmente è uno dei più aziendalisti è uno di quelli che gestisce lo spogliatoio meglio di chiunque altro perché ha trattato dei casi molto spinosi che forse tra le mani di altri allenatori avrebbero fatto ancora più danni e parlo di Cardi e Totti allora guarda io certamente ho sempre difeso il lavoro di Spalletti e ritengo che Spalletti abbia ragione su su tanti aspetti però devo anche dire che io non comprendo questo a parte la polemica diciamo col giornalista sul fatto in sé non ci entro però su altri aspetti io non capisco il nervosismo di Spalletti cioè un nervosismo e un'agitazione che francamente mi risulta stonata rispetto al fatto che Napoli prima di calcifica in Champions ha giocato una partita e l'ha vinto 4-1 contro il Liverpool perché lui è una squadra molto forte ed è molto agitato e va a tirare cioè lui certamente non ha digerito la contestazione dell'anno scorso e le polemiche dello scorso anno per me ha anche ragione perché l'assurso anno è certamente una stagione molto positiva in cui lui merita 8 8 e mezzo ma anche 9 no dopo di chi non è che ci può tornare ogni volta addirittura è tornato su Napoli Barcellona 2 a 4 partita io credo tutti insomma ci fossero persino dimenticati per dire che i principi di gioco erano gli stessi e che lui fu criticato e con Liverpool non ma grazie che ha perso 4 a 2 a parte che la partita non fu affatto la stessa ma il risultato fa tutta la differenza del mondo così come sul turnover lui ha ragione cioè le polemiche sul turnover sono polemiche insulse secondo me che non hanno ragion d'essere addirittura lui poi ha tirato in mezzo anche anche dei laurenti però lui non come Spalletti che sta nel calcio da 30 anni come fa non sapere il turnover il furiero di polemiche quello che mi colpisce è troppo agitato magari lui io l'ho paragonato come me che il Rome che il Rome era un grande tenista che giocava sempre contro mille avversari non solo quello che era di fronte litigava con l'arbitro litigava con se stesso litigava con gli spettatori litigava con i fotografi la finale di Parigi perché litigavo con un cameraman però insomma quello che mi colpisce cioè lui dovrebbe godersi questo momento perché è un momento importante su una cosa non sono d'accordo con Spalletti io se lo suona perché Spalletti ha fatto un po' capire con alcune delle sue affermazioni che questa squadra questa rosa fosse inferiore a quella della scorsa secondo me non è vero questo è l'unico punto di cui io non sono d'accordo con Spalletti e lo sta anche dimostrando e secondo me è anche una rosa che finalmente ha infezioni giovani che non hanno il passato non sono stati dieci anni nel Napoli non sanno quasi nulla di Napoli non hanno messo partite importanti è una squadra sfrontata leggera quindi se la dovrebbe godere perché lui ha un grande materiale di disposizione ed è un grande allenatore è troppo nervoso secondo me in larga parte è immotivatamente Max grazie mille davvero per essere stato con noi a Radio Punto Nuovo grazie a voi alla prossima con Massimiliano Gallo direttore del Napolista intanto sul account ufficiale della Lega Serie A su Twitter compare ormai una Baraschelia Maniac Baravaggio possiamo dire che il nuovo vi piace come come nuovo soprannome anche del Giorgiano sono molti tifosi anche molti giornalisti che provano Baradona noi prendiamo le distanze lì si scherza prendiamo le distanze però Baravaggio è al momento il più carino anche il più simpatico da sottolineare calciatore che ha preso anche una anche un'altra consapevolezza contro lo Spezia è stato un pericolo costante sta aumentando anche la sua confidenza con il calcio italiano davvero la gara contro il Liverpool può essere stata una gara svoltante non solo per la sua carriera ma per quella finalmente di Piotr Zielinski che anche lui nel secondo tempo è stato determinante prima Ciccio Marolda citava l'apporto di citava l'apporto di Lobotka nel secondo tempo ma anche quando è entrato Zielinski ha fatto davvero la differenza poi io onestamente non riesco ancora a capire perché si insista così tanto su un calciatore come Elmas che sta dimostrando di soffrire ancora una volta una volta gioca a sinistra una volta gioca al centro il problema è che a volte fa anche degli errori non di movimento tattici ma fa degli errori proprio di scelta proprio di decisioni tecniche all'interno del campo e non capisco perché uno come Gaetano abbia dovuto esordire contro lo Spezia soltanto alla sesta giornata di campionato ricordiamo la qualità forse sarà il nome sarà il nome straniero gli italiani sempre più difficili se la cremonese sta in serie A questa cremonese è merito anche soprattutto di Gaetano assolutamente ha fatto una grande stagione lo scorso anno di Elmas ricordo in maniera importante un episodio dell'ultima partita contro contro lo Spezia di una palla persa su uno scarico di Kvaraschelia a centrocampo con Elmas che si aspettava non si sa chi alle sue spalle Spalletti lo ha richiamato fortemente perché gli ha detto ci devi essere tu sullo scarico dell'esterno di Kvaraschelia che l'ha urlato però sembrava un'arpia non so se ma è anche giusto così è giusto giustissimo e Elmas ha anche fatto qualcosa di interessante ad inizio partita quelle incursioni quegli inserimenti anche partendo da sinistra però è troppo poco non basta questo per giocare ed essere titolare in questo Napoli perché Elmas è già la seconda partita titolare ok che ha segnato contro il Lecce però deve fare molto di più non può avere una fiammata adesso non ha giocato 90 minuti però intendo nell'intero arco della partita non può avere una sola fiammata non si vive di questo non si gioca per avere soltanto questo durante tutta la partita bisogna fare molto altro come ad esempio Kvaraschelia Kvaraschelia è l'esempio lampante di quello che bisogna fare durante una partita primo pallone è giocato quel doppio tunnel qualcosa di spettacolare e se avesse poi segnato andato a calciare sarebbe venuto giù il Maradona lo dobbiamo dire assolutamente noi eravamo in auto dopo la stavamo volando a casa stavamo sbattendo in un semaforo non si dovrebbe fare non si dovrebbe vedere però ero collegato su Dazon nel momento in cui guidavo al doppio tunnel ho sentito Tiri Bocchi gridarlo in commento mi sono girato a guardare il replay stavo andando dritto in un semaforo doppio tunnel voluto voluto assolutamente forse Lorenzo Pellegrini lo scorso anno è riuscita una cosa sì 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 lo scorso anno me lo ricordo non ricordo la partita ricordo però il gesto il gesto tecnico noi tra 40 secondi torniamo in diretta per parlare di Glasgow Napoli perché intanto vi do un'altra ultima ora appena arrivata anche in redazione perché è ufficiale il rinvio di Arsenal PSV Eindhoven per l'Europa League la gara era in programma giovedì alle ore 21 ovviamente guardiamo con attenzione anche a quelle che saranno le altre gare delle inglesi tra Europa League e Champions League riferimento netto anche al girone del Milan che per fortuna tra virgolette dei rossoneri giocherà contro la Dinamo Zagabria regolarmente mercoledì sera e quindi non avrà grossi problemi nella preparazione contro il Napoli mentre il Chelsea contro l'altra del girone contro il Salzburgo potrebbe avere qualche problema intanto tra 40 secondi rientriamo per tenere i fari puntati sulla questione Glasgow un po' dei vostri commenti sia al 380 127 2000 sia al gruppo Facebook Michele Ciavarella al quale io continuerò a chiedere scusa all'infinito per aver fatto delle ironie sul suo messaggio sul fatto che il centrocampo del Napoli potesse essere il famoso il famoso messaggio ce lo porteremo fino alla fine di questa stagione gli chiederò scusa fino al 30 di giugno per aver tra virgolette fatto ironie sul suo vedere il centrocampo del Napoli più forte quello è Liverpool abbiamo vinto una partita brutta e sporca ma meglio un calcio oggi brutto che l'anticalcio visto dallo spezia Raspadori quando un episodio ti porta dalle stalle alle stelle poi Fabio Pacifico scusate non sono d'accordo lo spezia ha comunque fatto una gara e un risultato onorevole Michele D'Angiola in queste partite contano solo i tre punti e ancora tanti come molti non siete contenti ma come potreste d'altronde della partita di Indon Belè che dopo 45 minuti è stato anche tra virgolette bocciato vogliamo utilizzare un termine forte semplicemente non è ancora in condizione bisogna avere un po' di pazienza un calciatore che ha anche una struttura fisica particolare molti state anche accostando il nome di Baccaio Co però sono due calciatori diversi e secondo me su Indon Belè Giovanni si rischia di creare anche un inequivoco tattico Indon Belè se deve sostituire qualcuno è più affine alla sostituzione di Zielischi che alla sostituzione di un Anguissa addirittura addirittura i Lobot che lì sarebbe sparare sulla croce rossa Indon Belè è una mezzala è un giocatore di inserimento non è uno che deve impostare l'azione oppure uno che deve rompere il gioco io personalmente è chiaro che non che non ha giocato bene contro contro lo Spezia però l'ho trovato già meglio rispetto alla partita contro il Lecce è cresciuto un po' sotto il punto di vista atletico si è fatto vedere di più è riuscito a lottare su qualche pallone in più a proporsi un minimo in più in avanti ha fatto qualche passo qualche passo in più questo questo lo dobbiamo riconoscere se nella partita contro il Lecce ha giocato da 4 e mezzo 5 contro lo Spezia siamo arrivati al 5 e mezzo deve iniziare a raggiungere adesso la sufficienza per poi diventare importante nel corso della stagione per Spalletti per i compagni per tutti quanti la stagione è molto lunga servirà soprattutto nei mesi caldi in questo momento il Napoli per fortuna con tutti gli scongiuri del momento chiaramente lo vengo a dire per fortuna il Napoli sta messo abbastanza bene con quei tre che funzionano che stanno bene che giocano bene e quindi in Don Belè al momento deve soltanto pensare a crescere di condizione soprattutto e anche a livello mentale anche a livello mentale perché è un calciatore che ha delle doti molto molto importanti dal punto di vista tecnico lui è una mezzala ma anche con una predisposizione certamente all'offendere che al difendere questo va assolutamente sottolineato quindi non creiamo equivoci su un calciatore che comunque è sotto la luce del sole chiara che ha delle difficoltà dal punto di vista della preparazione atletica della condizione fisica quindi va anche un attimo aspettato cerchiamo di capire oggettivamente poi se nelle prossime settimane riuscirà anche a dare una sterzata al proprio cammino con gli azzurri noi tra un po' andremo in Inghilterra perché c'è qualcuno che è rimasto tra virgolette lì nei pressi di Glasgow in realtà è rientrato a Londra parleremo con Rosario dello Iaco del Napolegno che aveva ormai organizzato tutto per una trasferta anche molto bella parliamo comunque di uno dei campi parliamo anche delle città dove il calcio ha un sapore particolare ma tra Liverpool Amsterdam la stessa Glasgow Rosario buongiorno è un peccato perdersi trasferte del genere perché sono campi sono squadre sono ambienti dove il calcio ha un sapore un odore una storia diversa buongiorno eh ragazzi buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori ovviamente sì perché Ibrox è comunque uno dei degli stadi leggendari comunque del calcio mondiale e tra l'altro diciamo espressione eh di quella parte di Glasgow protestante anglicana diciamo molto molto l'etica del Celtic che invece diciamo no del tifo di buona parte degli irlandesi che non siano unionisti cioè delle tematiche che sono anche difficili da cogliere per noi perché chiaramente abbiamo un un background storico differente però posso assicurarvi che noi 600 circa che avremmo dovuto essere lì ce la faremmo goduta perché Ibrox è uno degli stadi dove andare come Celtic Park allo stesso modo eh però che possiamo fare purtroppo tra l'altro io sono atterrato ieri a Londra eh vanno poi domenica a Milano per Milan-Napoli e resterò una settimana così comunque qui a Londra inutilmente poi alla fine Rosario comunque c'è un po' di un po' di rabbia un po' di nervosismo per quello che è successo ma ehm tra te e altri tifosi avete già iniziato a chiedere qualche modo qualche tipo di rimborso non so anche eventualmente morale per quello che è successo allora guarda io credo che sia fondamentalmente giusto comunque chiedere un rimborso perché questa decisione comunque è arrivata due giorni prima comunque per dei motivi non strettamente legati alla gara ma di una serie di circostanze che veramente ragazzi non per fare vittimismo ma capitano solo a noi i tifosi del Stato è vero la morte della regina dopo 70 anni la regina muore in Scozia la calma si trova nel Burgo e in Burgo e Glasgow sono le due città più grandi comunque della Scozia sono abbastanza vicine l'una all'altra quindi la necessità da parte della polizia scozzese di scostare buona parte diciamo del suo organico ad Edimburgo ieri per dirvene una c'erano due milioni di persone all'uniello cioè per darvi un'idea dell'enormità diciamo di quello di quello che succede quindi non ne faccio un discorso personale perché io comunque risiedevo negli altri sei anni ho vissuto a Londra risiedevo qui ho ancora la residenza legale qui in Inghilterra perché sono l'attimo momento di ripensamento capire se voglio restare in Italia o tornare qui e quindi in qualche modo per me è una sorta di ritorno a casa però conosco tanti amici che facevano itinerari folli diciamo dal più semplice auto buss alle 4 di mattina a Napoli per arrivare a Roma e per fare Roma a Scali nell'est europeo per cui c'è gente che ha speso anche davvero 300-400 euro perché poi a fine partita per chi non partì per chi non aveva l'aereo da Glasgow era letteralmente impossibile praticamente arrivare a Redimburgo a meno che non prendere un Uber un taxi comunque parliamo di due città che comunque non sono non sono molto distanti ma non sono nemmeno Napoli Caserta assolutamente assolutamente immagino che vi state anche attivando noi prima avevamo l'onorevole Gaetano Quagliariello club parlamentare Napoli ci diceva che stavano interpellando anche le tante autorità diplomatiche sul territorio e sul suolo britannico per aiutare chi magari come te ha vissuto la stessa ha vissuto la stessa disavventura anche il Kodakons attraverso molti media qui a Napoli sta cercando di far capire che ci sono comunque delle modalità di rimborso modalità che qualcuno al momento ti ha già appaventato oppure si brancola ancora nel buio allora guarda io ho letto tutto però ti ripeto la mia la mia condizione è comunque un attimo differente perché io mi troverei a dover chiedere il rimborso per un ritorno su Londra dove io legalmente risiedo e dove comunque io da quando sono tornato giù in Italia a dicembre eh tieni conto questa è la quinta volta che torno dell'interno per cui diciamo sono un viaggiatore abituale di questa tratta ritengo comunque invece che per tutti quanti gli altri sia del tutto doveroso riconoscere comunque delle forme di rimborso fossero anche semplicemente dei voucher aerei do per scontato che Ticket One ci rimborserà i biglietti della partita tra l'altro mai falati come stavolta 74 sterline incluso di commissioni le ospite perderemo sicuramente le commissioni però insomma io non ho ricevuto al momento neanche nessuna comunicazione ancora da Ticket One per la restituzione dei soldi del biglietto per tutte le altre spese ragazzi io lo ritengo doveroso e se qualcuno di quelli che sono ora in ascolto fanno parte degli sfortunati 600 di Glasgow il mio appoggio comunque è di procedere in azioni legali tra l'altro la mia pagina da dove si dovesse sviluppare certo ricordiamo la mia amica di questo tipo sì sì Napoli sicuramente noi Napoli bene daremo sicuramente tutto il supporto e tutte le informazioni assolutamente diciamo per poter aderire io non la farò siccome sono una persona franca diciamo non lo ritengo opportuno anche perché Rosario ma ti aspetti una mano anche dal Napoli un'iniziativa un qualcosa che se non è un rimborso vero e proprio un regalino con un'attenzione ai 600 di Glasgow ragazzi sinceramente no cioè nel senso se la SSC Napoli Aurelio De Laurenti se dovessero stupirmi sarò ben contento di riconoscerlo come faccio ogni volta che accade qualcosa che secondo me va sottolineata in positivo per esempio pensiamo ai tifosi della Roma che pur avevano assistito alla distatta in Norveggia eh all'istatta europea della Nostra non è già ai quali è stato regalato il biglietto per la finale di Piranha noi non ci siamo neanche riusciti ad andare praticamente agli altri abbiamo speso dei soldi per cui sarebbe fantastico se per esempio in Napoli ci riconoscesse questi biglietti per la prossima prossima trasferta di Champions in Europa ovvero ce li tramutasse i biglietti per la partita con l'Ajax dall'altro a differenza dei tifosi della Roma in Norveggia noi non abbiamo neanche usufruito di questi biglietti per cui ci devono essere già rimborsati poi francamente ragazzi Napoli io non diciamo al di là di qualche piccolo segnale di management all'inglese di quest'estate di Laurenti visto nelle rare dichiarazioni agostane io non vedo diciamo un club molto fan oriente cioè che guarda ai tifosi comunque come un elemento centrale della propria strategia poi auguro di mi auguro di sbagliarmi e che quindi in Napoli ci sorprezzate che faccia qualcosa ma la vedo la classica attivazione di scaricabarine tra autorità scozzesi britanniche che poi c'è un Parlamento scozzese un Parlamento britannico cioè ci sono le autorità municipali le autorità di politica scozzese per cui è un tale macello di responsabilità che diventa anche difficile no? poi attribuire delle colpe certo sarebbe fantastico se il Napoli senza essere in qualche modo il colpevole no? di questa situazione irresponsabile facesse un gesto anche perché siamo 600 era la trasferta più complicata non ci sono voli diretti in Napoli l'aggo sarebbe un bellissimo segnale la parte del Napoli speriamo che arrivi io dubito ma speriamo che arrivi speriamo bene speriamo bene Rosario prima di salutarci come ti sembra questo Napoli rivoluzionato e che cosa ti aspetti dalla sfida contro i Rangers? ragazzi io sono francamente sorpreso quindi il discorso dell'onestà che ti facevo prima perché io comunque rappresento una pagina che spesso è critica nei confronti della società però quello che poi si viene in campo va comunque riconosciuto ci sono sicuramente due artisti che finora si sono dimostrati accettati ed importanti tra la scelia sulla corsia finista e Kim che sta sorprendendo qualche piccola sbavatura ma comunque già due gol realizzati due gol anche insomma pesanti e quindi un Napoli che sorprende attendendo ancora Don Belè che mi sembra purtroppo ancora in ritardo di condizione e i due nuovi che comunque pur non avendo diciamo giocato tantissimo con un minutaggio limitato hanno comunque pure loro marcato il tabellino in particolare era Spadoglio ero allo stadio perché sono abbonato ero allo stadio comunque nell'ultima partita e ragazzi ho visto proprio lo spettro delle due partite precedenti con lo Spezia un pareggio che proprio non ci sarebbe voluto e per fortuna da Spadogli ha avuto la determinazione e la freddezza di metterla nell'unico angolo dove la poteva infilare perché quello sembra un po' facile ma secondo me non lo è affatto che cosa faremo con Rangers è un altro banco di prova importante diciamo che il Rangers ha esordito malissimo ne ha presi quattro comunque ad Amsterdam nella prima però è una di quelle squadre che solitamente comunque tra le muramiche in casa è uno stadio caldo c'è una squadra sì molta garra molta grinta molta determinazione e onestamente più che il risultato della gara in sé diciamo io purtroppo sono scudetto centrico diciamo poi per salutarci davvero perché purtroppo c'ho soltanto dieci secondi ancora per continuare non dimentichiamo Rosario che questi sono finalisti in carica dell'Europa League assolutamente della sì no vabbè ragazzi ma queste sono squadre che scorrono ragazzi voi se avrete se avete avuto se aveste l'opportunità di guardare una qualunque partita anche di serie B serie C del calcio inglese o britannico in generale credetemi voi avrete la sensazione di un gioco estremamente dinamico che intorno non si fermano mai l'arbitro c'è cinque volte a partita sono squadre abituate a giocare a ritmo sopperiscono magari la gap che ricongono una forte determinazione un forte attenzione fisica non sarà una partita facile assolutamente non sarà una partita facile perdonami ma i tempi della radio sono tiranni Rosario davvero 30 secondi prima dei saluti grazie mille davvero alla prossima un abbraccio ragazzi a voi un abbraccio a Rosario Dello Iacovo il Napolegno 20 secondi soltanto per salutare Giovanni Annunziata ciao Giovanni ciao Alessandro ciao a tutti a domani noi ci risentiamo domani puntuali alle ore 13 con il sottoscritto con Giovanni con Pietro con Cilis con i vostri commenti con quello che sarà lo sport e la vigilia di Glasgow Rangers Napoli tutto questo a partire domani dalle 13 vi lascio alla musica di Radio Punto Nuovo ciao